Oggi parliamo di ansia da prestazione. È un argomento che più o meno ho accennato in passato, in qualche altro contenuto, ma oggi voglio provare ad andarci un pochino più in dettaglio. Perché parliamo di ansia da prestazione? Perché da quando è uscito il mio nuovo libro, L'Arte della Pazienza, se non l'avete letto recuperatelo, perché ne vale la pena, mi sono trovato sempre più spesso a parlare di questo argomento durante magari delle interviste, delle presentazioni, dei webinar. E qualche giorno fa, in una di queste occasioni, una ragazza mi ha chiesto Raph, mi dai qualche consiglio per affrontare quest'ansia da prestazione, che è una cosa che vivono soprattutto le persone che lavorano nel digitale. E l'ho fatto qualche riflessione in quell'occasione e penso che ci sono degli spunti interessanti e valga la pena fare un contenuto ad hoc. Ci sono tre aspetti, secondo me, sui quali vale la pena lavorare, con i quali affrontare questa questione dell'ansia da prestazione. Allora, il primo punto qual è? Il primo consiglio. Smetti di seguire sui social gente che è tossica, gente che ti fa stare male. È veramente così, cioè veramente così. Netta, semplice, pulita, ma questo è il primo passo, secondo me. Perché parto dai social? Perché molte delle problematiche che viviamo oggi, delle nuove ansie che sono parte di questa società, di quest'epoca, sono dovute a un abuso dei social e ad alcune dinamiche nuove che si sono generate a causa di un abuso dei social media. Ad esempio ne ho parlato quando ho parlato di FOMO. Andate per recuperare l'episodio sulla FOMO, perché pure quello è un argomento interessante. Questa è una cosa che ho vissuto su di me, in prima persona. Quando, scrollando il feed di Instagram o qualsiasi altro social utilizzate, vedevo delle foto, dei video, dei contenuti che in realtà non mi davano niente, non mi divertivano, non mi facevano crescere, non mi intrattenevano, non mi educavano. Erano semplicemente dei momenti nei quali magari rosicavo per qualche motivo. Perché c'era qualcuno che mi generava dell'invidia, perché c'era qualcuno che mi generava della rabbia, e così via. La cosa più semplice del mondo è sti cazzi, li tolgo tutti quanti, smetto di seguirli. E sto facendo sempre di più questa selezione. Iniziai tempo fa su Facebook, che è diventato proprio un postaccio. E ora questo stesso approccio lo applico ovunque. I video che guardo su YouTube, le persone che seguo su Instagram, i contatti su LinkedIn e così via. È un filtro che vi consiglio di applicare ovunque. Ho parlato ovviamente di persone tossiche, però diciamo, più in generale direi le cose che non vi fanno stare bene. Se una persona pubblica dei contenuti che vi fanno stare male per qualche motivo, iniziate da lì. E ci sta, e lo capisco, perché immagino un ragazzo, una ragazza giovane all'università o neolaureato, sta scrollando il suo feed di Instagram, si trova tutta gente di successo, col fisico da paura, col macchinone, la casa con la villa, piena di soldi, vestiti firmati. Abbiamo quella sensazione di essere gli sfigati di turno, perennemente in ritardo, di non avercela fatta, di non essere all'altezza, di non aver avuto successo, e tutti questi pipponi che ci facciamo quando guardiamo quelle cazze di foto. E allora chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare? Smetti di seguire questa gente. Non ti fa bene, non ti fa bene, no? Vedere questo, fare questo confronto continuo e uscirne perdenti, mettiamola così. E infatti il secondo punto, il secondo suggerimento che voglio dare, è estremamente collegato a questa cosa che stavo dicendo, ed è capire che non c'è nessuna competizione in corso. Anche questo è apparentemente banale, però una cosa, no, è un concetto banale, poi un'altra cosa è interiorizzarlo e farlo nostro. Non c'è nessuna cazzo di competizione. Non c'è, non c'è, non c'è. E quindi pure quando vi capita di vedere quelle foto, che dicevo prima, no? Quei contenuti che in qualche modo vi mettono in soggezione, in imbarazzo, vi fanno sentire non all'altezza, e così via. E non sono cose che mi sto inventando, questi sono i dati che lo dicono. C'è una valanga di ricerca scientifica a tal proposito che fanno vedere come le nuove generazioni vivono un perenne senso di inadeguatezza rispetto a certe tematiche, soprattutto quando si parli di lavoro, di carriera, e così via. Why you? Non c'è nessuna competizione. Non stiamo in gara con gli altri, no? Io con altri content creator, con altri marketers, con altri imprenditori, e così via. E lo stesso vale per voi, nella vostra nicchia, nel vostro settore, e vale anche per le aziende. Vale anche per le aziende. Recuperatevi l'episodio che ho fatto su Non c'è un cazzo da vincere nel business, ispirato, tra l'altro, a un bellissimo libro che si chiama The Simon Sinek, che si chiama Il gioco infinito. Leggetevi questo, che è un ottimo punto di partenza. Perché dico capire che non c'è nessuna competizione? Perché quando entro in quest'ottica, e anche questa è una cosa che ho capito molto tardi, da un paio di anni che ho iniziato a lavorarci, io l'unica cazzo di competizione a cui voglio partecipare è quella con me stesso. Basta! Voglio essere una versione migliore di me. Oggi voglio essere un po', no? Meglio di ieri. Voglio che Raffaele possa fare un passettino in avanti ogni giorno. Quindi il Raffaele di oggi deve essere migliore del Raffaele di una settimana fa, di un anno fa, di due anni fa. E quello di, magari del futuro, fra un anno o fra due anni, voglio che sia migliore di quello di oggi. Basta! Questa è l'unica competizione a cui voglio partecipare. Quindi l'unico modo per vincere quella gara che avete nella testa è ritirarsi da quella gara. Basta! E il terzo e ultimo spunto di riflessione, diciamo, il terzo e ultimo suggerimento è quello di concentrarvi sulle cose che sono sotto il vostro controllo. Questa è un'altra cosa che ha un impatto enorme sull'ansia da prestazione. E lo dico da perfezionista o comunque da ex-perfezionista. Pure di questo ho parlato in passato in qualche altro episodio, no? Ho fatto un video sull'incapacità delle gare e delle problematiche che mi ha portato. E questo era dovuto al fatto di essere di base un perfezionista. Che non è una cosa positiva, è una cosa negativa. è una cazzo di maledizione. Quindi diciamo, avevo prima la mania del controllo. E la mania del controllo inevitabilmente porta all'ansia da prestazione. Perché ovviamente pensi di poter controllare 100 fattori, di cui 100 forse puoi controllare uno o due, li controlli pure male. E quindi il resto del tempo impazzisci dietro a cose che sono fuori dal tuo controllo. Quindi qui il suggerimento qual è? Se ci sono 100 cose in questo momento nella tua vita, nel tuo lavoro, nella tua carriera, e di queste 100 le puoi controllare tre, quattro, è forse esagerato, concentrati su quelle tre o quattro e falle bene. Le altre 96-97 lasciali andare perché probabilmente sono fuori dal tuo controllo. Anche qui magari vi lascio un libricino che potete leggere. Qua diciamo, su questo punto qui la filosofia stoica veramente ne ha parlato tantissimo, 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 tantissimo. Diciamo, pescate un testo a caso tra gli stoici e dentro c'è questo concetto. Però, diciamo, se ne volete uno, leggetevi il manuale di Epiteto che si concentra molto su questa cosa, sul concentrarsi, scusate il gioco di parole, concentrarsi sulle cose che sono sotto il nostro controllo e lo lega molto al concetto di felicità. Quindi, riassumendo, andiamo a concludere tre cose importanti per uscire dall'ansia da prestazione. Uno, smettete di seguire la gente tossica. Due, capite che non c'è nessuna competizione in corso. E tre, concentratevi sulle cose che sono sotto il vostro controllo. Grazie di essere arrivati alla fine dell'episodio di oggi. Abbiamo parlato di ansia da prestazione, una cosa che, come dicevo prima, è uscita spesso negli ultimi eventi che ho fatto per la presentazione del libro, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Anche perché, come dicevo prima, questa è una roba che vive ancora di più chi lavora nel digitale, chi è esposto a certi stimoli, chi ha certi ritmi, no? Chi vive proprio la prestazione, la performance come uno stile di vita. Fatemi sapere cosa ne pensate. Sia se qualcuno di questi suggerimenti vi è utile, sia magari se in qualche modo l'affrontate diversamente, l'avete superato oppure la state vivendo in questo momento. Lasciate scritto nei commenti cosa ne pensate, perché secondo me si generano delle discussioni interessanti e come sempre, no? Abbiamo la possibilità di un confronto che è la cosa più bella di questa community. Tra l'altro voglio fare una cosa con voi che non faccio da un bel po' di tempo. Se avete visto il video fino a questo momento, quindi questo non vale per chi sta ascoltando il podcast, se avete visto il video fino a questo momento, nei commenti lasciate un pipistrello. È il mio segnale, no? È il nostro bad segnale per capire che avete commentato, ma guardando il video fino alla fine visto che un sacco di gente commenta cazzo di cane e il video non lo finisce. Quindi se state guardando il video lasciate un pipistrello qui sotto io capisco che siete arrivati fino alla fine. Prima di salutarci vi ricordo di seguirmi un pochino sui social e quindi ci vediamo su YouTube se volete altri contenuti come quello di oggi in formato video oppure ci sentiamo sul podcast se preferite il formato audio. Ma in generale ricordatevi di seguirmi su LinkedIn che è il social sul quale sono un pochino più attivo. E prima di chiudere l'episodio di oggi vi ricordo che io ho una scuola online un'academy che si chiama Growth Program fatemi un getto su growthprogram.it vi lascio il link qui sotto in descrizione non è un corso è una scuola quindi non ha un inizio e una fine voi entrate e potete rimanere dentro quando volete c'è gente che è da due anni lì dentro e continua a studiare perché? Perché c'è sempre materiale nuovo alcune lezioni le faccio io alcune lezioni le fanno gli ospiti esterni se avete un vostro progettino vi piace il mondo del business del digital marketing e le cose di cui parlo qui sopra fatevi un getto su growthprogram.it perché potrebbe fare a caso vostro e io vi do appuntamento al prossimo episodio e io vi do appuntamento per il km